Ciao ragazzi, io sono Gabriel Ezzingaro, benvenuti sul mio canale YouTube. Oggi sono qui per presentarvi, onestamente con colpevole ritardo, del quale mi scuso sin da ora, visto le richieste che ci sono state, una ninfa che ho ereditato e modificato come vedrete dal buon Angelo Piller durante le riprese della prima stagione dei Signori della Ninfa. Di cosa sto parlando? Sto parlando della Black Void. Una ninfa molto efficace sia sui corsi d'acqua alpini, ma con successo, ve lo garantisco, l'ho utilizzata anche nei corsi d'acqua appenninici. Ho semplicemente portato delle variazioni al dressing originale, non perché la ritenga più efficace con queste modifiche, ma semplicemente per delle scelte personali. Ad esempio ho sostituito l'anellatura con il Magic Tinsel e le code, ho tolto il faggiano e ho utilizzato della pernice. Chiaramente resta invariata l'efficacia, come vi ho detto, della ninfa. Vi invito a provarla. Allora non l'abbiate già fatto, iscrivetevi al mio canale YouTube. Se vi è piaciuto questo video poi mettete un bel like, domande, dubbi o perplessità qui sotto nei commenti. Adesso andiamo al morsetto a fare questa ninfa semplice semplice, ma molto molto funzionale. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.